Ehi, 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 che è successo? Sono, sono il commissario De Luca, chiamo il 113, dica di avvisare l'ispettore Esposito Sì, va bene, va bene, subito, subito, subito Il Belli, il Belli è in pericolo, corri, corri, avvisa la squadra, inisci la squadra Andate avanti, mi confugno Andate avanti Solle le lo solle st hay, viva bene Andate avanti Some theta Tagando Che Grazie a tutti. Grazie a tutti.